appena arrivato alla nauticara van di imola il nuovo urban van cross camp meccanica toyota da 1.500 a 2.000 di cilindrata con 120 150 e 177 cavalli quest'ultimo con cambio automatico 6 marce per quanto riguarda il cambio manuale entrambe le portiere sia a destra sia a sinistra sono scorrevoli e incluse nel prezzo all'interno di quella di sinistra c'è la cucina quest'ultima è anche esportabile i vetri posteriori sono termici fissi nei laterali è apribile invece quello posteriore il tetto a soffietto è di serie compreso nel prezzo prezzo che parte da 44 mila euro iva compreso retrocamera di corredo i posti omologati come autocaravan sono cinque i posti letto invece sono quattro due nel letto a soffietto e due ripiegando il sedile inferiore sempre di serie radio fendinebbia lunghezza di questo veicolo 4 metri 95 1 e 99 di altezza e due metri di larghezza vi invitiamo a vederlo alla nauticaravan di imola buon camper a tutti